Oltre 1800 metri cubi di asfalto sono stati stesi nell'anno 2023 nel comune di Corleto Monforte. Ha dichiarato con soddisfazione il primo cittadino del comune alburnino, Filippo Ferraro. Gli interventi hanno interessato fondamentalmente tre assi, la strada provinciale 12 dal confine con Sant'Angelo a Fasanella fino al cimitero di Corleto, quasi il 90% delle strade asfaltate del rione Rapi e la strada Campo del Sordo. I numeri testimoniano il buon esito della conduzione dei lavori. Su dieci appalti affidati nel 2023, infatti, cinque sono stati ultimati. C'è ancora tanto da realizzare, ha continuato il sindaco Filippo Ferraro, sia in ambito infrastrutturale, sia in quello di attività immateriali che vanno dalla cultura al sociale, dai giovani ai meno giovani. Intanto, nella giornata del 27 dicembre 2023, un aiutante speciale alla guida di una spanditrice con tanto di barba bianca e abito rosso ha portato in dono alla comunità corletana un manto stradale sicuramente più agevole.